Travestito da donna insieme ad un complice che gli era accanto e ad un altro che attendeva fuori a bordo di uno scooter avrebbe rapinato preziosi per quasi 18 mila euro a Catania il 9 febbraio scorso in una gioielleria di Viale Mario Rapisardi malmenando il titolare ed i commessi. Per questo motivo con l'accusa di rapina in concorso i carabinieri su delega della procura etnea hanno arrestato un catanese di 35 anni. A compiere la rapina intorno alle 16 e 30 furono due uomini che indossavano mascherine chirurgiche, uno con sembianze ed abiti femminili. Il complice è parzialmente travisato con un cappellino. Il rapinatore vestito da donna avrebbe iniziato a colpire una commessa che voleva controllare i green pass mentre il complice avrebbe estratto un taser malmenando un altro commesso che insieme alla collega avrebbe supplicato i due di prendere ciò che volevano senza far del male alle persone presenti nel negozio. I rapinatori però avrebbero continuato a malmenare i due commessi fino all'arrivo del titolare che è sceso dal laboratorio e è riuscito prima a mettere al sicuro una cliente con la figlia minorenne. Poi ha tentato di opporsi ai rapinatori che l'hanno colpito con una spranga di ferro procurandogli una frattura al radio destro. I due hanno preso in ostaggio il commesso per uscire fuori con il bottino per poi fuggire a bordo di uno scooter guidato da un terzo complice. Di fondamentale importanza per le indagini numerosi filmati estrapolati dall'impianto di video sorveglianza della gioielleria e di esercizi commerciali della zona.